Giovanni Battista Beccaria, il gradus taurinensis e l'ultima fatica letteraria di Levio Bottazzi. Ma quanti libri ha scritto finora? Beh, non tanti perché ho fatto attività tra amministratore e politica che avevo poco tempo. Ne avrò scritti 8-10, cominciando da uno sulla storia delle municipalizzate con la terza e poi qui ne ho scritti 3, uno sull'idroelettrico in Valle Orco che fu, credo occorre sottolinearlo oggi con questa siccità, il primo progetto non solo come potenza ma per la prima volta all'inizio del Novecento si parlava di uso integrato delle risorse idiche legando produzione elettrica, irrigazione e assestamento idrogeologico. Insomma, Levio Bottazzi è un ragazzo che sta per compiere, possiamo dirlo, 89 anni e ha una carriera alle spalle ma ugualmente proiettata verso il futuro di amministratore pubblico, di uomo impegnato nella società. Io però vorrei farle una domanda sulla sua gioventù. Lei è, e possiamo dirlo, in questi giorni di aprile, lei ha vissuto i tragici giorni di via Asti a Torino. Sì, venne arrestato perché portavo, andavo a prendere dei volantini nel gennaio del 1945, non avevo ancora compiuto 15 anni. La mia fortuna fu che avevo d'accordo con quello che venne arrestato, che era Luciano Gruppi, che viveva clandestino in un alloggio di ebrei sequestrato, che eravamo d'accordo che io andavo a fare lezioni di latino. Chi mi interrogava, che era il tenente Iannelli, apri il libro di latino, probabilmente era ascettico sul fatto che dicesse la verità, ha cominciato a farmi interrogazioni su Ovidio, io gli risposi su Ovidio leggendo, recitando a memoria una parte degli scritti di Ovidio e anche con la metrica latina, lui allora cominciamo a discutere di latino e così a un certo punto mi lasciò andare alla sera e così riuscimmo a salvare tutto il CLN della zona del centro di Torino, perché il giorno dopo aveva la riunione lì a casa dove mi hanno sequestrato e non riuscirono a prendere nessuno. Quello che ci ha raccontato poco fa è la dimostrazione che la cultura nella vita è fondamentale e lei, possiamo dirlo, per tutta la vita ha perseguito questa che non è solo una passione ma è uno stile di vita. Lei ha fatto l'amministratore pubblico tanti anni a Rivoli, è stato consigliere provinciale della provincia di Torino per tanti anni e oggi che ci chiamiamo città metropolitana di Torino, Levio Bottazzi è il testimone di quello che la provincia di Torino è stata in passato. Sì, purtroppo con l'abolizione della provincia non si è capito l'importanza del ruolo della provincia nell'aggregare e aiutare soprattutto i comuni piccoli. Io quando ero amministratore a Rivoli eravamo una città di 50.000 abitanti, per cui non tra le più piccole della provincia di Torino, abbiamo avuto un notevole aiuto da parte della provincia per la stesura del piano regolatore, per tutta una serie di indagini, eccetera. Immaginiamo i piccoli comuni di montagna. Oggi occorrebbe, tra l'altro con il fallimento del referendum sulla modifica costituzionale, spero che qualcuno pensi di risistemare la collocazione delle province e ridare a loro il ruolo che gli spetta. Presentiamo oggi l'ultimo libro, abbiamo detto, sullo scienziato piemontese del Settecento Beccaria, il prossimo progetto letterario nel cassetto? Ma pensavo ho trovato negli archivi di mio padre molte convocazioni subito dopo la liberazione di comitati che si riunirono qui al Palazzo Cisterna. La cosa mi ha incuriosito, anche perché abbiamo una lapide sotto dove Saragat era venuto a omaggiare la sede che fu quella del primo governo regionale con Franco Antonicelli e allora sarebbe, credo, importante ricostruire la storia di Palazzo Cisterna che fu sede della giunta della deputazione Bovetti, sede della Commissione Economica Regionale del CLN, sede del primo governo regionale di Franco Antonicelli e anche sede del Comitato di coordinamento dei consigli di gestione fino al 1952. Credo che sarebbe importante ricordare ai torinesi cosa fu in quegli anni immediatamente dopo la liberazione Palazzo Cisterna e che oggi spero, con il fatto che qui c'è Lampi, eccetera, che torni ai vecchi fasti, tenendo conto che venerdì sera ci sarà la notte degli archivi. Sarebbe importante che il prezioso archivio della provincia, che viene poco utilizzato dagli storici perché non è conosciuto, rientrasse anche come archivio della provincia nella sede degli archivi della città di Torino, che sarebbe un elemento molto importante per ricostruire la storia dall'unità d'Italia ad oggi del ruolo che ebbe la provincia di Torino.